Uah, è chi è? Nuovo sindaco di Napoli, chiedi magistrato se non c'è più! Calcio e politica. I napoletani riconosceranno di più i giocatori della loro squadra del cuore o il nuovo sindaco della città? Chi è? Chi è questo? Ah, ma questa è una modifica, è proprio lui! È lui! Può fare Lorenzo in segno pelato? Uah, ma io questo è difficile, eh? Ma questo può essere qualche parente di tipo Manalas, d'acqua? Oh, un po' chiatto pelato! No, è Zanomi! Ah, mi verrebbe da dire l'hotbotka, ma non penso! Come è messo questo? Io non lo riconosco. Questo qui mi verrebbe da dire un Higuain senza i capelli? Ah, però questo è facile, ma solo perché gioca da anni! Eh, chissà da primavera e qua, ma non... Questo? Ah, ma questo è proprio peresce! Oh! Ah! Non mi ricordo! Oh, mamma mia! Eh, oh, Gesus! Il nuovo, il nuovo Gesus! Juan Gesus! Juan Gesus! Juan Gesus! Juan Gesus! Ah, ma Juan Gesus è a Napoli adesso? Sì, a Napoli! Siete sicuri? Sì, sì! Ammazza ragazzi! Camerunense, centrocampista... Eeeh... 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 Zambone! Anguissà! Anguissà! Vabbè, Anguissà! Ma un po' alla patricklierà, diciamo, dell'arsenale! Ah, però questo è Anguissà! Fabio Ruiz! Fabio Ruiz! Ozzyman! Questo è il terzo quartiere di Dimitri... Oh! Ma che... Cioè, pare verente però... Dei quartieri spagnoli! No, non lo so! Contini! Marfella! La botca! Ci voleva fare da calcio! Un bacco esagerato! La botca! Perfetto! La botca! La botca! Wow! E chi è? No, no! Presidente o nuovo? Il presidente è nuovo? Oh! Presidente è il nuovo... Il nuovo sindaco! Il nuovo sindaco! Il nuovo sindaco! Manfredi, il nuovo sindaco! Vabbè, il nostro sindaco, Gaetano Manfredi! Il professor Manfredi! Vabbè, Manfredi? Mamma mia! Eh, speriamo che va bene! Ma questo è... Il nuovo sindaco di Napoli! Vai, 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 vai! Con la M, con la M! No, proprio niente! Seguiti! Ma non era con la B! Cosa? Come si chiama? Manfredi Cario? È il nuovo sindaco! Eh, ehm... Ma che stai uscendo? Ma che stai uscendo? Ma che stai uscendo? Ma che stai uscendo? Manfredi! Nuovo sindaco di Napoli! Chiediti Magistra se non c'è più! Fredi! Gaetano Manfredi! Bravo! Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, attivate la campanella, ma soprattutto commentate! Ci vediamo ad un prossimo video con Spazio Napoli! Grazie a tutti!